Jim Morrison, il cantante della band anni 60, i The Doors, era una delle icone di culto più influenti e enigmatiche della storia del rock. I suoi comportamenti definiti all'epoca oltraggiosi, dediti all'alcol e alle droghe, dentro e fuori dal palco, hanno deciso la sua reputazione di piantagrane e ribelle. Decide ad un certo punto di seguire la sua ragazza Pamela a Parigi, fuggita con il suo amante. Il 3 luglio del 1971, Jim viene ritrovato da Pamela, morto nella sua vasca da bagno. I medici francesi certificano che si tratta di un attacco di cuore, avvenuto per cause naturali, ma questo non sembra convincere nessuno. C'è chi parla di overdose di eroina, c'è chi dice addirittura che non sia morto nel suo appartamento, ma che sia stato spostato dopo per coprire qualcun altro. La causa della sua morte a Parigi, il 3 luglio del 1971, risulta molto controversa e se ne parla ancora dopo 45 anni dalla sua morte. La sua morte, infatti, ispira voci e teorie del complotto. Vediamole nel dettaglio. Sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Oggi parliamo di Jim Morrison, come avete visto dalla intro. Io è fan, quindi ho detto perché non portarlo, considerando che la sua morte lascia ancora diversi dubbi. Adesso vediamo come mai. Visto che l'impostazione del video di Heath Ledger vi è piaciuta molto, quindi cercando di ripercorrere i giorni prima della sua morte fino alla fine, eccetera, ho pensato di fare la stessa cosa anche con Jim Morrison. Anche perché ho trovato gli studi di un dottore, il dottor Michael Hunter, che è un patologo forense di fama mondiale, ha eseguito più di 4000 autopsie. Insomma, lui ha cercato di ricostruire con le informazioni che aveva a sua disposizione quale potrebbe essere stata la causa della morte di Jim Morrison. Perché, come vi dicevo prima, siccome i francesi non hanno fatto nessuna autopsia, cioè praticamente è stato in sostanza chiamato un medico nel momento in cui è stato trovato morto da Pamela, è stato chiamato un medico che ha fatto un'autopsia esterna, cioè quindi ha fatto una valutazione esterna però superficiale e ha detto che è morto di cause naturali. Quindi con un attacco di cuore dato da cause naturali, però questo non ha convinto nessuno. E quindi questo dottor Hunter, attraverso le testimonianze delle persone che erano, insomma, che lo avevano visto alla fine dei suoi giorni, la testimonianza di Pamela, l'istoriale clinico delle sue cartelle, quindi tutte le sue patologie pregresse, eccetera, ha cercato di ricostruire i fatti. È stato molto interessante, quindi adesso oggi vi parleremo di questo. Vi riporto in modo da cercare di dare una risposta a che cosa sia successo a Jim Morrison, anche perché ci sono ben tre teorie, pensate, sulla sua morte, al di là di quella ufficiale, cioè è morto di attacco di cuore per cause naturali, che non ha convinto nessuno, neanche me personalmente. E ci sono altre tre teorie che vedremo nel corso di questo video. Prima di cominciare, però, come sempre, lo sponsor del video di oggi, cioè Pampling, ho preso questa maglietta molto carina con una tazza del tè. Sopra, con quell'onda giapponese, bellissima, fantastica, meravigliosa, così oggi siamo proprio a tema tè in tutto e per tutto. Vi ricordo che le magliette di Pampling sono ancora 10 e 90, sono arrivati i costumi, quindi già ci prepariamo per il mare qui, come vedete io sono a maniche corte perché fa caldo, quindi potrei già andare al mare. E con il codice sconto, l'ora del tè, riceverete un paio di calze o calzini in omaggio, vi lascio il link e il codice sconto qui sotto in descrizione. Ora, non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo. Salve. Allora, quindi, come vi ho detto prima, c'è questo dottor Hunter che cerca di indagare sulla morte, sulle cause della morte di Jim Morrison. Come vi ho detto prima, la polizia francese è arrivata, poi vedremo bene la sera della sua morte nel dettaglio dopo, ma la polizia è arrivata, detto è morto di attacco di cuore, cause naturali, fine. Quindi non abbiamo né un'autopsia del corpo, né un esame tossicologico, non abbiamo assolutamente nulla, se non i testimoni che lo hanno visto, sia la sera della morte, la notte della morte come nel caso di Pamela, sia quelli che l'avano visto durante il giorno della sua morte e mesi antecedenti. E abbiamo l'istoriale medico delle sue cartelle cliniche, quindi con varie patologie pregresse, insomma, le ultime visite che si è fatto e quindi, insomma, il dottor Hunter ha deciso di indagare ora. Prima di passare ai giorni antecedenti, la sua morte, ripassiamo in breve chi è Jim Morrison, sarò molto stretta perché altrimenti dovremo fare tipo sette parti in questo video. Quindi, giusto per darvi un'infarinata per chi non lo conosce o per chi l'ha solo sentito nominare, Jim Morrison nasce l'8 dicembre del 1948 in Florida. Jim era il figlio di un ufficiale della Marina e aveva avuto un'educazione piuttosto rigida per via di questo. Lui era il più giovane dei tre figli e suo padre, che non c'era quasi mai perché essendo in Marina era sempre fuori, ogni volta che tornava in casa imponeva quasi un regime militare di educazione. Come per esempio, se non sbaglio, era per Marlon Brando, insomma, considerate che erano comunque altri anni. Quindi l'educazione dei figli era anche un po' diversa da quella di oggi, una madre piuttosto assente, quindi lui non si è mai legato particolarmente ai genitori. Nel 1964, all'età di 19 anni, decide di iscriversi ad un corso di recitazione alla UCLA, che sarebbe l'Università della California e chiaramente il padre era completamente in disaccordo con questo perché avrebbe voluto che il suo figlio maggiore facesse come lui, seguisse le sue orme in qualcosa non necessariamente Marina, ma in qualcosa che riguardasse, diciamo, il militare, le forze dell'ordine, ecco, mettiamola così. Ma Jim Morrison aveva un animo artistico, infatti si è iscritto a questo corso di recitazione. Pensate, infatti, che già nel 1964 lui taglia i ponti con i suoi genitori, quindi pensate quanto era grave l'opposizione del padre, tanto che lui poi nel corso degli anni ha rilasciato anche dichiarazioni dicendo non lo so, sono morti, comunque, insomma, non aveva una grossa relazione con i suoi genitori. Quelli sono gli anni dell'ascesa della cultura hippie della West Coast e alla UCLA trova proprio questo tipo di ambiente ed è l'anno dopo, nel 1965, che fonda la band The Doors con il suo compagno Ray Manzarek. Ray lo ha sempre descritto come un poeta più che un cantante, infatti Jim Morrison si sentiva così, cioè lui si ha fatto il musicista, però poi come vedremo tra poco a un certo punto della sua vita si è scocciato, si è rotto le scatole e ha deciso di intraprendere una carriera a livello poetico. Ecco perché ci sono tutti questi aforismi in giro di Jim Morrison, perché lui fondamentalmente era più un poeta che un cantante. Nell'ottobre del 1965, Billy James della Columbia Records offrì alla band un contratto a termine con una royalty molto bassa che non venne neanche rinnovata. Nel frattempo con i suoi amici, la sua band fanno un sacco di esperienze psichedeliche, vanno negli deserti della California, nelle riserve indiane dove ci sono tutte, non so se lo sapete, ma ci sono appunto nelle riserve indiane dei riti allucinogeni che servono per aiutarti a connetterti col tuo spirito, insomma un sacco di cose fantastiche. Loro le provano tutte, chiaramente appunto stiamo parlando degli anni 60, la cultura hippie, le droghe, l'eccesso eccetera eccetera, l'amore libero, la meraviglia. Nel 1966 i The Dorsi cominciarono ad apparire regolarmente nei locali più prestigiosi di musica, di Los Angeles, nei locali rock, si fanno sempre più nome e alla fine, scusate se ve la faccio così breve, insomma sfondano. Quindi i loro anni d'oro sono stati dal 67 al 70, in realtà pochissimo, solo che sono stati talmente iconici che ce li ricordiamo ancora ad oggi, che sono appunto ancora delle icone. Però sono stati dal 67 al 70, poi nel 70 hanno fatto l'ultimo concerto a Miami e poi Jim Morrison se n'è andato a Parigi e è andato a Parigi per seguire Pamela. Pamela è la sua ragazza storica che lei faceva alla Groupie, si erano conosciuti, lui si era innamorato perso di lei, hanno avuto una relazione molto tumultuosa che poi vedremo nel corso del video, diciamo quasi una relazione tossica, mettiamola così. Dopo l'ennesima rottura, a cavallo tra il 70 e il 71, Pamela fugge a Parigi con un altro amante e quindi Morrison nel 71 decide di seguirla a Parigi perché l'amava troppo, voleva stare con lei e inoltre voleva staccarsi dalla notorietà. Infatti la sua fuga a Parigi è stata sia per seguire Pamela ma anche un'occasione per reinventarsi perché lui voleva fare lo sceneggiatore e il poeta. E voleva staccarsi da tutta quella ossessione, quella celebrità, quella fama che aveva negli Stati Uniti perché come diciamo sempre la fama non è sempre una cosa positiva, solitamente è una certa ti stufi, è una certa ti senti in trappola e vuoi scappare. È successo agli attori, l'abbiamo visto, è successo anche a Jim Morrison. La fama ragazzi vi ve lo dico sempre, io la vedo più come una prigione che come un qualcosa di positivo. E da qui parte l'indagine del dottor Hunter, quindi ripercorriamo i giorni prima della morte di Jim Morrison, ore 20 del 1 luglio del 1971, due giorni prima della morte di Jim. All'epoca Jim Morrison era a Parigi già da tre mesi e come abbiamo detto voleva seguire Pamela, voleva fuggire insomma da tutta la fama e quello che era, però aveva iniziato ad avere delle abitudini alimentari piuttosto eccessive. Cosa ha reso Jim Morrison così speciale? Cioè come vi dicevo prima se ci pensate insieme con i The Dors è stato 4-5 anni di cui 3 gli anni d'oro. Però lui è stato così iconico perché saliva sul palco con una naturalezza incredibile, cioè lui sembrava completamente a suo agio sul palco, spesso sotto effetto di droghe e alcol perché diceva che così si connetteva meglio ai suoi fan. Lui era un poeta rock, cioè era una figura che all'epoca non era ancora esistita, cioè è stato innovativo in quel senso perché è diventato veramente un'icona grazie ai suoi testi ma anche grazie al suo stile di vita, al suo modo di essere, a come si presentava sul palco che poi era anche quello che era dietro. Cioè lui saliva sul palco esattamente così com'era, mentre quei giorni a Parigi dalle foto si vede un Jim Morrison visibilmente invecchiato, si vede un Jim Morrison visibilmente ingrassato, infatti dalle testimonianze delle persone che lo hanno visto in quei giorni si evince che lui mangiava cibi grassi senza sosta. Quindi lui si abbuffava tantissimo di cibo e soprattutto continuava con l'alcolismo. L'alcolismo lo aveva sopraffatto da quando era adolescente, poi nel corso degli anni anche per via proprio della sua figura di rock star la situazione è degenerata. E questo appunto potrebbe essere il primo sentore di uno stress al cuore. Quindi quello che sta facendo il dottor Hunter e che vedremo adesso è cercare di capire che cosa ha portato all'attacco di cuore, perché chiaramente le cause naturali non sono possibili, assolutamente, comunque lui è morto a 27 anni. Quindi cerchiamo di capire che cosa sia stato, quale sia stata la causa che gli ha fatto cedere il cuore. Quindi partiamo appunto da un cibo sostanzialmente spazzatura, ricco di grassi, mangiato senza sosta e l'alcol. Fino a questo punto sappiamo queste due cose. Insieme a tutto questo fumava molto, cioè praticamente lui fumava una sigaretta dopo l'altra e anche questo sappiamo che unito ai cibi grassi rischia di affaticare il cuore, rischia che si depositino dei detriti che non aiutano bene la circolazione del sangue, in sostanza ti si possono bloccare le arterie e questo può causare ictus e infarto. Ma ricordiamoci che Jim Morrison aveva 27 anni. Queste cause di cibo grasso e fumo senza una condizione clinica pregressa in cui magari sei più debole per altri motivi a 27 anni e 27 anni è strano che ti uccidano. Per quanto riguarda l'alcol appunto come vi dicevo prima lui spesso era sul palco ubriaco. Lui lo diceva appunto che serviva per connettersi con i fan però comunque era spesso sul palco ubriaco. Si sapeva era noto il suo alcolismo e pensate che una volta, pensate questo è un fan fact anni 60 veramente quando l'ho letto sono rimasta un po' senza parole. Che cosa è successo? Che lui era ubriaco sul palco, probabilmente anche fatto di qualcosa, ha cominciato a spogliarsi, si è tolto prima la maglietta, poi si stava togliendo i pantaloni, un membro della band gli ha detto non ti togliere i pantaloni. Lui si è arrabbiato, ha spaccato il microfono e si è tolto i pantaloni. Questo gesto di denudarsi davanti al pubblico che tra parentesi lo aveva seguito e si erano tutti denudati è costata una denuncia a Jim Morrison per attiosceni in luogo pubblico. Perché all'epoca erano gli anni 60 sì ma perché si era sviluppato il movimento hippie come una sorta di protesta al conservatorismo americano. Cioè voi considerate che in televisione all'epoca non si poteva dire neanche la parola incinta. Cioè veniva censurata e poi censurata voglio dire come altro posso dirlo però sì c'era questo programma l'Ed Sullivan Show che era sorta come del Jimmy Fallon Show ad oggi no? Che quando eri famoso passavi per l'Ed Sullivan Show. C'erano stati anche i Rolling Stones e c'erano andati erano stati invitati i The Doors. Ora che succede che all'epoca non si poteva parlare di sesso, di droga e di rock'n'roll diciamo appunto in generale. Non si potevano dire queste cose in televisione quindi pensate che ai Rolling Stones è stato fatto cambiare il testo di una canzone per andare a esibirsi all'Ed Sullivan Show. Quindi i Rolling Stones hanno dovuto cambiare il testo della loro canzone perché non andava bene per la televisione no? Quindi visto che i Rolling Stones avevano ceduto i The Doors hanno detto ok cediamo anche noi e dovevano cambiare un testo della canzone cioè delle frasi di Light My Fire. Perché Light My Fire inneggia sostanzialmente alla droga nel senso che parla dello sballarsi, parla di come raggiungi un livello superiore anche nel provare determinati tipi di esperienze. E chiaramente questo in televisione non si poteva fare perché non sia mai che inneggi i ragazzi alla perdizione. C'è nessuno che pensa ai bambini! E quindi avevano promesso di cambiarlo. Quando poi si sono esibiti i Jim Morris hanno detto io non cambio proprio niente. Si sono esibiti, hanno cantato il testo vero di Light My Fire e sono stati completamente banditi dal programma. Perché giustamente Jim Morris hanno detto io sono per la libera espressione, non cambio assolutamente niente. Quindi sono stati banditi. Quindi quando lui si è spogliato sul palco è stato denunciato per atti o sceni in luogo pubblico. Cioè pensate un po' questo si è trovato una denuncia per atti o sceni in luogo pubblico. Tornando appunto al focus del discorso, questa denuncia più il suo alcolismo, il fatto che spesso non riuscivano a fare le prove perché lui appunto era troppo alcolizzato, era irrascibile, aveva portato dei dissapori con la band. E si vociferava che la band stesse iniziando a fare delle canzoni anche senza di lui. Quindi in tutto questo contesto dopo la fuga di Pamela lui è andato a Parigi. Quindi è andato a Parigi comunque in una situazione anche un pochino stressante perché è vero che voleva reinventarsi ma aveva una condanna vendente, aveva dei dissapori con la band. Quindi lui a un certo punto ha mollato tutto ed è scappato. E lì si è buttato su cibi grassi, alcol e fumo che insomma insieme è un mix abbastanza pericoloso però vi ripeto aveva 27 anni, non poteva essere passatemi il solo questo. Quindi non avendo l'autopsia il Dr. Hunter parte dalle testimonianze. La prima testimonianza presa in considerazione dal Dr. Hunter è di Alan Rooney, un amico che aveva frequentato la UCLA insieme a Jim Morrison. Loro si sono visti il 2 luglio del 1971, cioè il giorno prima della sua morte. Si sono incontrati in un bistro, lui conferma che Jim Morrison mangiava senza sosta tutto quello che gli capitava sotto mano, che beveva un sacco, che fumava tantissimo. Quindi questa cosa è confermata anche da Alan Rooney. Ma c'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa perché durante il pranzo Jim Morrison ha avuto una condizione di tosse prolungata, cioè praticamente tossiva tantissimo tutto il tempo. E quando verso le 4 del pomeriggio si sono salutati, ha notato che lui aveva iniziato anche ad avere un singhiozzo potente che gli impediva di parlare. Quindi singhiozzo e tosse prolungata potrebbero essere sinonimi di una dispnea, quindi di una difficoltà proprio respiratoria. Le difficoltà respiratorie hanno tante cause, ma dalla storia di Jim Morrison possiamo anche dedurre che si tratti di diverse brutte cadute, cioè di un trauma proprio al torace. Questo perché? Perché Jim Morrison era solito fare anche azioni spericolate. Per esempio, 5 mesi prima della sua morte, si trovava allo Chateau Mormon, un hotel, lo stesso di cui abbiamo parlato di Tledger, insomma questo hotel dei VIP, no? Si trovava in questo hotel, praticamente a un certo punto decide di scendere dal tubo dello scarico, di arrampicarsi e di scendere da lì, cade di schiena da 3 piani, o 4 se non mi ricordo, 3 o 4 piani, cade di schiena sul tettuccio di una macchina. Quindi questo è un trauma fortissimo per il corpo, chiaramente. Ora, perché lui faceva queste cose spinte all'eccesso? Perché ha avuto anche altre due brutte cadute. Una volta è caduto appunto dal secondo piano. Perché lui faceva tutti questi gesti? Faceva tutti questi gesti perché lui voleva portare le esperienze personali all'eccesso. Cioè, per quanto sia assurda questa situazione, però c'era un motivo per cui lui si arrampicava ovunque cadeva, per cui mangiava tantissimo, per cui beveva tantissimo, per cui fumava tantissimo, per cui si drogava tantissimo. Perché lui pensava che spingere all'eccesso le esperienze umane, quindi le esperienze del proprio corpo, avrebbe portato al cosiddetto tempio della saggezza. Quindi un'autoconsapevolezza, una consapevolezza superiore di se stesso. Quindi come se raggiungi l'espressione massima della saggezza portando ogni tua esperienza di vita all'eccesso. Ed era per questo che lui aveva questo tipo di vita, anche spericolata a livello appunto di sicurezza, quindi come per esempio arrampicarsi sulle finestre, buttarsi dai balconi, una volta si è buttato appunto dal balcone di un hotel a Parigi. Cioè lui tutta la sua vita la portava all'eccesso, senza fermarsi, senza sosta. Da una visita infatti pregressa rispetto agli ultimi giorni della sua morte, si nota che un medico aveva certificato che lui avesse dei dolori al petto, cioè il dolore al torace praticamente, il che potrebbe confermare il fatto appunto che le botte prese cadendo sempre di schiena da altezze elevate gli aveva portato dei traumi che gli avevano causato quindi difficoltà respiratorie. Tanto che siccome non si era curato, secondo alcune testimonianze, tra cui quella di Pamela la sera della sua morte, lui tossiva anche spesso sangue, quindi questo è chiaramente un sintomo, il corpo ti sta dicendo c'è qualcosa che non va, però lui non si faceva curare. Quindi sappiamo poi che la droga degli hippie, mettiamola così, era negli anni la cocaina che si è sviluppata a cavallo tra il 69 e il 70, e Jim Morrison chiaramente nella sua politica del tutto all'eccesso l'aveva provata e ne era rimasto assuefatto, quindi lui era un grande consumatore di cocaina. Quindi fino a questo punto abbiamo alcol, cocaina, droghe varie ma sostanzialmente cocaina, questo anche perché la cocaina viene chiamata proprio la droga dell'infarto, perché la cocaina ti fa, ti accelera così tanto il battito cardiaco che a un certo punto, insomma io ora non sono un medico, però si viene chiamata la droga dell'infarto, la cocaina, ecco. Quindi già se avesse assunto cocaina la sera della sua morte, già questo sarebbe stato un mix abbastanza letale, ovviamente ci metti droghe, cibo grasso, alcol, fumo, chiaramente con la cocaina che insomma contorna il tutto, capite che comunque un corpo anche giovane di un 27enne può cedere, però come facciamo a sapere se lui ha assunto cocaina? Non c'è il rapporto tossicologico, perché appunto vi dicevo la Francia non ha praticamente esaminato niente, quindi dobbiamo ritornare sulla testimonianza della notte della sua morte, cioè il 3 luglio del 1971. Vediamo bene che cosa è successo la sera della sua morte. È l'una del mattino, Pamela e Jim sono sul divano a bere whisky, sorseggiare whisky e a sentire della musica. Molto rilassati, quindi quello che dice il dottor Hunter è che siccome Jim era rilassato dai racconti di Pamela, se lo prendiamo per vero, dai racconti di Pamela era abbastanza rilassato, è chiaro che non stesse assumendo cocaina, perché la cocaina ti manda su di giri, non sei sicuramente seduto sul divano a rilassarti, ma al massimo corri per la stanza, quindi non è, probabilmente non ha assunto cocaina quella sera, quindi se escludiamo la cocaina dobbiamo trovare una causa che unita alcol, droga e cibo malsano possa aver fatto cedere un corpo di 27 anni. Comunque, che cosa succede? Che si addormentano sul divano, alle 3 e mezza del mattino Pamela viene svegliata da dei rumori che stava facendo Jim, perché stava facendo come dei rantoli, dei lamenti nel sonno, quindi lei aveva paura che lui stesse soffocando, l'ha scosso e l'ha svegliato e quindi i rumori sono finiti, allora Jim decide di andarsi a fare un bagno, quindi, insomma, lui si fa il bagno, a un certo punto Jim, verso le 4 del mattino, chiama Pamela insistentemente e gli dice aiutami, aiutami, non riesco a respirare. Pamela va in bagno, lui inizia appunto a vomitare, inizia a tossire del sangue. Finito il vomito, Pamela si rimette a dormire, che questo già può sembrare un po' strano, ma poi lo vediamo dopo, si rimette a dormire perché dice ok, ha vomitato, si sente meglio, però hai vomitato sangue, Jim Morrison ha detto non c'è bisogno che chiami il medico, però insomma, magari tu più lucida, potevi chiamarlo, perché nel momento in cui tossisci sangue, sai, non è proprio il massimo, ecco. Non la chiamate e si è rimessa a dormire. Alle 4 e 30 Pamela si risveglia, si rende conto che Jim non è ancora tornato dal bagno, va al bagno e trova Jim Morrison, che sembrava dormire nella vasca da bagno, quindi era appoggiato così, sembrava dormire, ha provato a scuoterlo, non ce l'ha fatta. Così che cosa fa Pamela? Chiama Alan Rooney, cioè anche questo è sembrato strano, perché comunque se il tuo ragazzo non ti risponde, chiami il 911, cioè no, a Parigi il 100 sarà, come no, il 118. Comunque, chiami i soccorsi e fai venire qualcuno. Invece lei chiama Alan Rooney, che arriva sul posto, prova a svegliare Jim, non si sveglia, quindi chiama i soccorsi. Nel frattempo, Alan e Pamela portano Jim Morrison sul letto. Quando arrivano i vigili del fuoco, provano a rianimare Jim Morrison, perché il corpo era ancora caldo. Il problema è che il corpo era ancora caldo, perché era dentro l'acqua calda, ma in realtà Jim Morrison era già morto. Infatti poi viene chiamato un medico che verificherà il decesso di, insomma che certificherà, ecco scusate, il decesso di Jim Morrison. La polizia francese sul momento aveva iniziato un po' a sospettare, perché aveva cominciato a sospettare che potesse trattarsi di overdose, perché anche ispezionando l'appartamento erano state trovate alcune droghe, quindi chiamano un medico forense, chiamano un medico forense che arriva però 12 ore dopo e lui certifica che si tratta di morte naturale, come vi dicevo prima, cioè non è stata fatta nessuna autopsia, ha fatto un'ispezione generale, è morto Dio, un attacco di cuore, per cause naturali. Ora voi vi chiederete perché non è stata fatta l'autopsia? Non è stata fatta l'autopsia per diverse ragioni. Innanzitutto era comunque estate, quindi la maggior parte dei medici erano in vacanza, detto proprio papale papale, erano in vacanza e probabilmente non valeva la pena spendere delle risorse pubbliche francesi per due sostanzialmente drogati, nel senso che Jim Morrison era famoso, sì, perché anche se Jim Morrison era famoso comunque non era diciamo il turista ideale, mettiamola così, faceva comunque casino, lui e la sua fidanzata si drogavano tantissimo anche nella camera di hotel, ma in sostanza passatemi il termine disturbava, era molto lontano dall'ottica dell'alta società parigina di quegli anni, quindi dei turisti parigini composti vestiti bene che andavano in quegli anni, tutta l'alta società parigina, la cultura, cioè loro erano proprio il contrario, capito? Quindi si pensa che la polizia abbia fatto tutto in fretta e furia perché non valeva la pena spendere dei soldi per due persone che non erano manco francesi, erano americane, erano drogati, disturbavano, non rappresentavano quella che era la società parigina e quindi hanno detto guarda sbrighiamola in 448, tanto ha avuto un attacco di cuore a prescindere da cosa e l'hanno chiusa lì. Quindi Pamela racconta la polizia che non avevano assunto droghe però appunto tutto quello del dolore al petto, del fatto che abbia tossito sangue eccetera lo sappiamo proprio dalla testimonianza di Pamela ma la testimonianza di Pamela si ferma lì. La testimonianza di Pamela si ferma lì perché poi nel 2009 e già qui appunto come vi dicevo nessuno crede che sia morto per cause naturali nel 2009 un resoconto ha minacciato di riscrivere completamente la versione ufficiale della morte di Jim affermando che non è morto nel bagno e neanche nel suo appartamento. Quindi questa rivista riformula una nuova teoria riformula una nuova teoria perché dice che in realtà Jim Morrison non sia morto a casa ma sia morto dentro un locale il Rock and Roll Circus il Rock and Roll Circus era un locale molto esclusivo frequentato appunto da celebrità secondo questo racconto e secondo questa teoria Jim Morrison era lì è stato raggiunto da due uomini che erano due spacciatori è andato in bagno appunto per drogarsi poi lì c'è rimasto con il fatto che la porta era chiusa è stato chiamato il manager cioè Sam Burnet è stato chiamato che con due buttafuori ha sfondato la porta ha visto il corpo di Jim Morrison lì senza vita con una bustina di attenzione non cocaina ma di eroina quindi qui entra in gioco un altro fattore che sarà fondamentale per questa teoria e quella successiva ma per evitare che si venisse a sapere che dentro al locale era possibile comprare droga eccetera eccetera e anche rimanerci il manager ha incaricato due buttafuori di riportare Jim Morrison dentro l'appartamento di aprire la vasca da bagno metterlo nell'acqua calda per mascherare l'ora della sua morte perché il momento in cui appunto il corpo rimane caldo è impossibile verificare quando effettivamente è morto quindi e l'hanno lasciato lì ora chiaramente voi vi starete chiedendo e Pamela in tutto questo ecco Pamela con chi era fuggita a Parigi Pamela era fuggita a Parigi con un aristocratico francese che però spacciava eroina all'élite di Francia cioè all'élite parigina prevalentemente quindi lui faceva lo spacciatore per i ricchi e lui si chiama Jean de Breteuil un mio accento francese mua quindi lei era scappata con questo Jean e si pensa che sia stato proprio questo Jean che frequentava l'élite parigina e quindi frequentava anche questi locali dove andava l'élite parigina tra cui quello dove era stato Jim Morrison proprio quella sera perché poi ci sono le testimonianze che quella sera lui è stato veramente lì e che quindi probabilmente la droga gliel'abbia data lui o comunque qualcuno dei suoi Pamela era scappata con lui è arrivato Jim Morrison ma comunque lui rimaneva il suo amante cioè era una relazione un po' strana un po' così di amore libero quindi probabilmente Pamela per i sostenitori di questa teoria che dicono che Jim Morrison sia morto in realtà dentro il locale Pamela abbia coperto il tutto proprio per evitare che Jean finisse nei guai che quindi la polizia iniziasse a investigare che probabilmente Jean gli aveva spacciato l'eroina come cocaina quindi lui ha sniffato l'eroina ed è morto da cosa capiamo da cosa può essere una conferma del fatto che abbia sniffato l'eroina dal sangue che aveva intorno al naso perché comunque il medico del medico Forense insomma che lo ha visto e ha decretato la sua morte ha scritto nei referti che lui intorno alle narici aveva del sangue e quando si sniffa eroina così come cocaina ma anche eroina ha maggior ragione si possono rompere i vasi sanguigni quindi sicuramente lui aveva quella sera sniffato qualcosa 14 ore dopo la morte di Jim Morrison Pamela e Alan si incontrano in un bistro poi Alan successivamente rilascerà un'intervista in cui conferma che Pamela gli ha raccontato che quella sera oltre a sorseggiare whisky e ascoltare musica loro nel loro appartamento si stavano facendo di eroina e che appunto Jim Mene era diventato abbastanza dipendente quindi il dottor Hunter dice che il mix di letale di tutto quello che aveva quindi alcol fumo cibo grasso difficoltà a respirare trauma toracico con l'eroina può risultare un mix letale ma c'è un'altra cosa in quegli anni l'eroina dei ricchi mettiamola così è un'eroina chiamata China White la China White era un'eroina molto 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 potente ed è per questo che è probabile che Jim Morrison non sia morto di cause naturali ma perché si era sniffato troppo a China White perché poi la China White era un'eroina diversamente elaborata che appunto girava tra i ricchi quindi secondo il dottor Hunter lui dice sì cioè non può essere morto di cause naturali è morto di overdose su questo ne sono sicuro e questa teoria la condivido anch'io non so cosa pensare in merito al fatto che sia morto in realtà dentro al locale e poi sia stato trasportato a casa o se sia morto direttamente a casa però sicuramente c'entra l'eroina cioè Jim Morrison è morto di overdose ma c'è anche un'altra teoria un'altra teoria sostenuta da un suo amico cioè Philip D'Alecki perché Philip e Jim avevano lavorato a Parigi insieme nello studio discografico di Philip che cosa è successo Philip racconta che un giorno Jim Morrison lui si portava sempre dietro questo taccuino dove scriveva le sue frasi i suoi pensieri eccetera eccetera dentro questa borsa bianca che lui si portava sempre in giro un giorno ha lasciato la borsa nel suo studio quindi Philip fa per rincorrerlo gli dice guarda Jim hai lasciato la tua borsa e Jim lo guarda gli dice te la puoi tenere tieniti tutto quello che c'è dentro quindi Philip prende questo taccuino lo apre e legge su una pagina le mie ultime parole c'è qualche frase e tutto quanto si conclude con finalmente sono morto quindi lui sostiene che in realtà Jim Morrison tutta questa sua politica dell'eccesso lo stesse facendo per suicidarsi come opera finale per togliersi la vita cioè quindi che anche la sua morte di eroina per la troppa eroina era intenzionale cioè lui era depresso per Pamela perché comunque aveva una relazione tossica lei aveva comunque un amante cioè si frequentava con entrambi la condanna agli Stati Uniti il fatto che i The Dors fossero andati avanti senza di lui il fatto che comunque lui voleva sfondare come poeta e come regista cioè come sceneggiatore ma non ci stava riuscendo si è un po' perso non sapeva più cosa fare quindi si è lasciato andare portando la sua vita agli eccessi quindi lui pensa questa cosa io sono più propensa a più inclini a pensare che sia morto per la China White inconsapevolmente e che comunque Pamela sappia qualcosa in più che non ha raccontato comunque poi Pamela è morta tre anni dopo sempre per colpa dell'overdose e si pensa in maniera un po' poetica che l'abbia fatto come una sorta di gesto perché si sentiva in colpa e voleva ricongiungersi a Jim quindi molto poetica come cosa per quanto triste e quindi il dottor Hunter dice questo il dottor Hunter dice il mix letale di eroina alcol fumo e droga ha portato un ragazzo di 27 anni cioè il cuore di un ragazzo di 27 anni a cedere e quindi a morire ma le cause naturali come è stato detto ufficialmente non c'entrano proprio nulla e questo è quanto e anche Jim Morrison fa parte del club dei 27 nel caso non sappiate cosa sia scrivetemelo sotto nei commenti e ci facciamo un bel video sul club 27 un bel video un video molto triste sul club 27 ma fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere voi secondo voi quale di queste teorie è quella più attendibile e noi ci vediamo martedì quindi vi auguro un buon weekend ciao